L'indicazione che voglio dare, la proposta diciamo così, da parte mia l'utilità che avrebbe una gita scolastica o una visita da vetrana, ovvero nella casa Misserina dove si è consumato, diciamo così, l'omicidio che tutti conosciamo, se omicidio c'è stato, io non voglio entrare nel merito per quanto riguarda questo aspetto. La proposta ovviamente può risultare bizzarra, per utilizzare un termine eufemistico, ma appunto volevo illustrarla. Io inizierei dal riferirmi a le gite che in molti casi vengono organizzate, io per mia fortuna non ho mai avuto l'occasione di recarmici, delle gite nei campi di concentramento. La gita nel campo di concentramento si pone un po' come obiettivo quello di far conoscere il male fondamentalmente, è una gita di umanizzazione, si portano i ragazzi o chi che sia in visita perché questi tramite la conoscenza fondamentalmente dei limiti dell'umanità arrivino a conoscere quello che è fondamentalmente il male, quella che è la bestialità umana, fino a dove si può protrarre la bestialità umana e quindi con la conoscenza sappiano starne lontani, come una sorta di avvertenza e questo poi un po' in fondo lo scopo formativo che si prefigge la visita a visite varie nei campi di concentramento e appunto il monito è guarda il campo di concentramento perché a questo si arriva e io inserendomi in questa linea logica di pensiero pensavo appunto ad Avetrana, noi adesso consideriamo Avetrana un po' come metafora della moderna bestialità e quindi se il monito della gita al campo di concentramento è fondamentalmente a questo si arriva, a questo arriva la bestialità, ad Avetrana il monito è un altro, una visita nella casa di Avetrana porrebbe come monito questo, ovvero da questo si parte, da qui parte la bestialità per spiegarmi un attimo meglio, secondo me sarebbe veramente formativo più di un campo di concentramento che è una cosa da noi molto distaccata, molto molto lontana per quanto lontano di distaccato si possa ritenere un campo di concentramento, diciamo meno quotidiano, mentre noi nella casa di Avetrana potremmo entrare, potremmo iniziare a rovistare, a scartabellare tra i libri, tra i cd, tra i film, che è la figlia di Michele Misseri, mi sembra si chiami Sabrina, leggeva, guardava, studiava e magari ritrovare libri, film, cd che studiamo anche noi, che guardiamo anche noi, ai quali ci siamo appassionati anche noi, poi dovremmo aprire le credenze, le credenze della cucina, della cucina che era gestita dalla matrona Cosima Misseri e guardare, guardare qual è la disposizione della pasta, del riso, dello scatolame e via di seguito e magari scoprire che molte cose sono le stesse che acquista nostra mamma, che molte cose sono disposte nell'ordine in cui le dispone nostra mamma, poi guardare giù, guardare nell'orto dove abbiamo visto anche all'opera lo stesso Michele Misseri e vedere e osservare se insieme al suo odio, insieme a questa sua bestialità primitiva, Michele Misseri cultiva magari anche le stesse zucchine che coltiva il nostro papà nel suo orto, coltiva gli stessi pomodori, li dispone nello stesso modo, insomma per capirci se ci fosse, e per concludere, se ci fosse un umanometro, una scala che misurasse l'umanità, io penso che la maggior parte di noi sarebbe sullo stesso gradino, per quanto riguarda l'umanometro, sullo stesso gradino, sullo stesso grado della famiglia Misseri. Se noi siamo ciò che mangiamo, ciò di cui ci cibiamo, dobbiamo essere consapevoli che noi ci sediamo a tavola con la famiglia Misseri, il che non è un male, ma però è necessario nella maniera più assoluta saperlo, esserne consapevoli. Ecco perché, a mio modo di vedere, una gita ad Avetrana è una gita dentro di noi, è una gita nella nostra intimità, è una parte della nostra intimità, è un modo per conoscere anche noi stessi. Ecco perché, in conclusione, quello che possiamo dire è che questo è un appunto monito, una gita ad Avetrana è un monito a noi stessi. Quindi, se viene sottoscritta la gita o la visita nel campo di concentramento, viene sottoscritta generalmente con la frase o con l'intenzione, con la sottoscrizione, perché non si verifichi più, perché non accada più, la gita ad Avetrana, a mio modo di vedere, dovrebbe avere un'altra sottoscrizione, un'altra iscrizione dove appunto si va ad indicare gli intenti della gita formativa, qui sì, siamo andati a visitare la casa di Petrarca, qui siamo andati a vedere il laudario di Cortona e via di seguito, campo di concentramento, perché non si ripeta più la casa di Avetrana, perché tutti sappiano che si potrebbe ripetere ancora. Grazie.